perché molti pensano che le fiat facciano schifo e soprattutto è davvero così vediamolo insieme salve e benvenuti in questo nuovo video oggi volevo affrontare un discorso che con clienti mi trovo a fare spesso cioè il vero valore delle fiat o comunque delle auto del gruppo fca e anche dei suoi veicoli industriali e spesso e volentieri vengono denigrate sia le auto sia i camion però io non la penso in questo modo comunque prima di cominciare il discorso volevo ricordarvi o comunque dirvi che se alla fine del video magari vi è piaciuto perché non iscriversi al canale e cliccare sulla campanellina e poi magari anche mettere un like per voi è un piccolissimo gesto però per me è davvero importante per cui pensateci su guardate il video e fatemi sapere bene iniziamo allora in molti pensano che le auto italiane le auto del gruppo fca non valgano niente che facciano schifo che non siano affidabili che facciano un sacco di rumore che all'interno degli abitacoli entrino tanti spifferi insomma chi un po magari bazzica il mondo automobilistico ma anche chi magari si trova a dover acquistare l'auto nuova e parla con qualcun altro penso che abbia sentito questi discorsi ma da dove arriva questa nomea beh io direi che il problema principale siano stati gli anni tra il 95 e il 2005 un decennio più o meno anno più anno meno in cui il la qualità costruttiva effettivamente delle auto che uscivano dalla fiat comunque dal gruppo fiat non era eccelsa sia esteticamente ma purtroppo anche meccanicamente c'erano un sacco di problemi il come come si dice spesso insomma all'interno gli scritti o lì erano tanti entrava un sacco di vento e anche le motorizzazioni non erano affidabilissime anche se lì c'è un discorso a parte da fare e soprattutto magari se si parla di sospensioni o di telaistica non erano certo il massimo e sono anni in cui vediamo arrivare la duna vediamo arrivare la multipla auto che la tesi salto auto che non erano certamente esteticamente eccelse ma il lato estetico comunque poi è tutto un discorso personale per cui si può anche parlare a lungo ma magari c'è qualcuno che a cui piace quel tipo di auto ma estetica a parte effettivamente le auto avevano un sacco di problemi e da lì ne è nata la nomea anche perché veniamo da anni venivamo da anni in cui effettivamente il gruppo fiat negli anni precedenti aveva sempre fatto delle belle auto pensiamo alla 131 pensiamo alla 1 alla panda insomma tutte auto che hanno avuto un grande successo e che hanno anche dimostrato di essere delle auto fatte bene poi che ci siano piccoli particolari che non andavano bene questo può capitare sempre oltretutto una puntualizzazione la voglio fare non è che le altre auto le altre marche di auto siano così superiori da permettere a qualcuno di dire che la fiera non serva a nulla che faccia schifo quando invece un'altra marca perché vi posso dire per certo visto che le riparo e visto che ne abbiamo ne ho avute anche diverse di fiat in mio possesso ne ho ancora una vi posso dire che le problematiche sono comuni anzi spesso e volentieri se parliamo per esempio di motori fiat è di gran lunga superiore a tanti altri e posso mettere nell'elenco auto francesi auto spagnole auto tedesche e quindi oggi almeno non dico che bisogna fare di tutta un erba un fascio ma vi posso dire che le problematiche che ci sono su fiat le troviamo tranquillamente anche su tutte le altre marche di auto qualcuno un po di più qualcuna un po di meno certo poi se andiamo nel livello alto allora lì il discorso si fa diverso ma non penso che fiat voglia o possa neanche competere a quel livello comunque ne parleremo tra un po anche di questo come vi dicevo io nella nostra officina ne ripariamo parecchie ne ripariamo di tutte le marche e le problematiche oggi sono più o meno sempre le stesse soprattutto se parliamo di diesel per esempio legate al sistema antinquinamento l'elettronica ormai su tutte le auto la fada padrona e basta veramente poco per rimanere per strada con tutte le marche però fiat vi posso assicurare che costruisce dei motori e delle motorizzazioni che sono davvero l'eccellenza poi negli anni ci siamo persi magari su qualche particolare come sulle sospensioni chi ha avuto una alfa 147 sa bene di quello che sto di cui sto parlando insomma braccetto e sospensione li mangiavano e quindi capita insomma che escano dei modelli che non siano proprio perfetti ma come vi dicevo anche le altre marche non scherzano affatto in questo senso e poi per quanto riguarda il gruppo io vi posso dire per certo che sono auto che possono che vanno sicuramente bene e che in molti casi vanno anche meglio di altri vi faccio l'esempio di quelle delle auto fiat che ho avuto io ho iniziato la mia prima auto era è stata una fiat 1 diesel 1.3 diesel un cattorcio di auto pagata 4000 lire era la mia prima auto è però con quella ci ho percorso decine di migliaia di chilometri e non ho mai avuto un problema certo stiamo parlando di auto di altri tempi successivamente ho avuto una 159 station wagon una grande macchina mi ci sono trovato benissimo ci ho fatto anche lì diverse decine di migliaia di chilometri senza dover fare mai nulla forse sono stato fortunato non vi saprei dire poi ho avuto per un certo periodo di tempo una croma brutta ok esteticamente veramente brutta ma con degli interni che mi hanno fatto innamorare è un motore il 5 cilindri da 200 cavalli che era qualcosa di impressionante con quella macchina che sono arrivato a 300 mila chilometri anche in quel caso veramente con piccole manutenzioni il tagliando è poco più poi ho avuto l'auto che più di tutta mi è rimasta nel cuore un'auto che ancora oggi penso di aver sbagliato ad averla cambiata e sto parlando della renegade un'auto straordinaria un'auto con la quale ci ho fatto 80 mila chilometri senza mai doverci fare nulla ma neanche metterci mezzo chilo di olio e ho fatto negli 80 mila chilometri un solo tagliando ai 40 mila per tutto il resto una lampadina e nessun altro problema oggi ho mia moglie ha una fiat 500 il 1300 e con del 2007 quindi anche con qualche anno sulle spalle anche quella problemi veramente zero l'unico grosso tra virgolette problema che poi è stato riconosciuto da fiat e nella si è praticamente rigonfiata la l'alloggiamento dell'airbag non l'airbag quello funziona e funziona benissimo ma l'alloggiamento si è un pochettino rovinato e quindi si vede sul cruscotto questa specie di gobba però può capitare per tutto l'altro meccanicamente veramente non ha nessun problema e vi dicevo delle altre marche oggi ho una tedesca chi mi segue lo sa e ci ho fatto poco più di 15 mila chilometri e già ci ho dovuto aggiungere un quasi un chilo di olio mi dicono che è normale in volkswagen che ha questo consumo per cui fate un po' voi io sulle altre mie fiat non ho mai dovuto fare nessuno di quei da nuova sto parlando mai aggiungere olio così presto in volkswagen invece mi dicono che sia normale per cui o normale o anormale le problematiche le hanno tutte le auto le ripariamo più o meno tutte le marche quindi so di quello che sto parlando per cui perché denigrare così un marchio che fondamentalmente lavora bene che certo a magari si perde in qualche piccolezza esteticamente poi negli ultimi anni mi sembra anche che sia riuscita a fare dei bei modelli sia che stiamo parlando di fiat sia che stiamo parlando di lancia sia che stiamo parlando di alfa con l'alfa romeo sta tentando in qualche modo di competere con i marchi più blasonati per il settore alto di gamma riuscendoci un po in parte sia per questioni magari anche di veduta perché in molti preferiscono dire io la bmw io la mercedes io la audi piuttosto che dire io ho un alfa ma anche in questo caso probabilmente anche sbagliato pensarla in questo modo è un'auto solida anche quella un'auto che va bene io parecchi clienti che ce l'hanno e che si trovano benissimo senza problematiche poi che capiti qualche modello che sia uscito non benissimo che abbia avuto qualche problema come capita in fca capita in tutte le altre marche come ho ribadito per tutto il video per cui io sono un estimatore delle auto italiane ripeto ne ho avuto diverse oggi non sto usando un'auto italiana è un po mi sono pentito anzi direi che mi sono pentito più di un po e quindi prima di denigrarle a meno che non abbiamo abbiate avuto una vi siete trovati malissimo allora potete parlare della vostra esperienza e allora in quel caso sì ma dirlo solo per sentito dire o perché magari qualcuno vi ha detto a fanno schifo non servono a nulla senza magari aver cognizione di causa o senza conoscere veramente il marchio allora lasciateli un po perdere quei quei discorsi io vi posso assicurare che sono auto buone se prendiamo oggi per esempio la panda un'auto vendutissima sono piccole auto che però vanno bene che non danno nessun problema ma sto pensando anche la laccia y le jeep lo sappiamo vanno tutte bene stanno trainando tantissimo il mercato di fca specialmente la renegade ma anche le auto un po più grandi abbiamo visto la tipo non ha avuto un gran successo però vi posso dire che anche quella è un'auto solida è un'auto che va bene che non dà nessun problema il motore 1.6 di fca funziona benissimo i motori 1.3 li conosciamo benissimo diesel i motori a benzina sono fantastici vanno anche quelli molto bene come vanno bene anche quelli a metano o in riparazione da un po di tempo una panda a metano con 400 410 o 415 mila chilometri una panda a metano vi posso dire che è stata trattata malissimo però funziona bene per cui non guardiamo sempre con i paraocchi pensiamo che non sempre chi denigra ha ragione cercate di sentire più campane e vi posso assicurare che comunque le auto italiane vanno bene bene basta penso di non dover raggiungere nient'altro le raccomandazioni ce le siamo già fatte all'inizio commentate fatemi sapere voi come la pensate cercando sempre di essere non troppo aggressivi tanto è una bella community questa che si è formata possiamo parlare tranquillamente di tante cose vedo che anche tra di voi spesso e volentieri si accendono delle discussioni ed è una cosa che mi fa piacere basta ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao